5 milioni di euro per assicurare agli alluvionati di Carrare e della Maremma un contributo di solidarietà e non certo un risarcimento. Si potrà rimborsare, secondo modalità che decideranno i comuni, beni mobili e immobili, fino ad un massimo di 5 mila euro a tutte le famiglie che hanno un reddito inferiore a 36 mila euro ISEE. La proposta di legge della Giunta è stata approvata dal Consiglio regionale. Questo è una forma di sostegno, di ristoro a una famiglia che comunque si trovi a sostenere una spesa e non ha le risorse per poterlo fare, che magari arriva anche più velocemente possibile perché l'iter è molto snello. Il fatto che ieri il Ministro del Rio abbia sostanzialmente detto che per 3 miliardi queste cifre potranno essere fuori dal patto, per noi è importante. Già il Presidente Rossi aveva anche forzato le cose. Circa 1700 le case invase dall'acqua e dal fango del Carrione a Carrara, esondato il 5 novembre, un centinaio nella zona dell'Albegna e in Maremma andata sott'acqua il 14 ottobre. Allagamenti ma anche frane con interruzioni della viabilità e case esolate, famiglie evacuate, pesanti danni alle abitazioni private e alle attività produttive. Alcuni hanno visto i propri cari strappati via dalla furia delle acque, come è accaduto per le due sorelle Marisa e Graziella Carletti, trascinate via dalla piena del Fosso Sgrilla, vicino Manciano. Capiamo che non è una panacea, capiamo che non è la soluzione ai loro problemi, però è un'attenzione. Come per dire, noi ci siamo. Hanno perso soprattutto la fiducia, la speranza, credo che in situazioni di questo genere dei segnali siano decisamente significativi. È un segnale importante perché per chi ha perso tutto nel giro di due volte, nel giro di pochi anni, anzi di due anni, comunque serve per cercare di ripartire. Sono state poi sbloccate 215 opere in Toscana per un valore di 130 milioni, potranno partire nei prossimi mesi. Per il territorio di Massa Carrara l'intervento riguarda oltre 50 opere per 27 milioni di euro. Questo dramma deve quantomeno servire ad intensificare i controlli, a fare tutte le verifiche sulle opere degli ultimi anni, affinché appunto non si ripeta una situazione di quel tipo che francamente è inaccettabile. Già anticipare 5 mila euro a famiglia che ha subito danni dall'alluvione è qualcosa di positivo, rispetto comunque a un indennizzo deve essere ben superiore perché oggettivamente c'è gente che ha perso quasi tutto. Cambiamenti climatici impattanti, ma anche decenni di cementificazioni e di incuria. La Toscana però da tempo ha approvato un provvedimento che impedisce ricostruire nelle zone a rischio idraulico e con la nuova legge urbanistica detto Stoppa, il consumo del suolo. Si viene incontro alle prime necessità ma manca ancora un disegno generale per venire incontro in maniera sistematica, omogenea e uguale per tutte le situazioni a quelli che purtroppo stanno palesandosi non più come eventi eccezionali ma purtroppo come eventi ricorrenti. Credo che la Giunta dovrebbe come in parte ha fatto costituirsi parte civile nei confronti di chi ha sbagliato come per quanto riguarda il fiume Carrione.